Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nell'angolo di Claudio Oggi andremo a vedere insieme come si installa Windows 11 Lo so, può sembrare banale, magari anche un po' alla Salvatore Aranzulla che salutiamo Però c'è chi non lo sa fare, chi soprattutto si affida a versioni come Revius, Atlos, OS, Windows X Lite Insomma queste porcatine qui che non hanno alcun senso di esistere Oggi andremo a installare Windows 11 in modo semplice scaricandolo dal sito ufficiale Ma prima lasciatemi ringraziare lo sponsor per quest'anno ovvero 123RF Questo sfondo che vedete alle mie spalle l'ho preso proprio attraverso 123RF Io dispongo di un abbonamento plus che mi dà accesso a un catalogo molto vasto Tra immagini, clipart vettoriali, video e tanto altro Voi potete visitare il sito che vi faccio vedere in questo istante Per esempio questa è l'immagine che io ho scaricato E effettuare innanzitutto la registrazione per usufruire del piano free Trovate tutte le info in descrizione come anche i prezzi Qui potete ricercare il tutto come avete foto, vettoriali, video e audio Abbiamo appunto i prezzi per gli abbonamenti o l'acquisto di crediti Per comprare comunque font, immagini, video e tanto tanto altro Ripeto link in descrizione di questa pagina E comunque di 123RF E nulla, io ringrazio lo sponsor di questo video Lo so, ne parlo poco Però è anche per non annoiarvi a ripetere sempre le stesse cose Link in descrizione Allora, io direi di andare sul sito di Microsoft Eccoci qua Ve lo lascio in descrizione E qui abbiamo la possibilità di scaricare appunto Windows 11 Se siamo già su macchina fisica con Windows già installato Magari vogliamo passare Windows 11 o reinstallare il tutto Ci basterà fare creazione di supporti di installazione Vi scaricate il tool Mettete la pendrive Equivale bene o male a Rufus Quindi nulla di complicato Però se siete un po' old school Volete scaricarvi la ISO? Ecco qua, download dell'immagine del disco ISO di Windows 11 Attraverso questo menu a tendina selezionate l'unica voce Ovvero Windows 11 Multi Edition Qua abbiamo anche una piccola guida Assicurati di avere una connessione in internet Bla 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 Ovviamente ci sono i famosi requisiti di sistema Potete trovare le specifiche dei dispositivi Windows 11 qui Ve lo lascio anche questo in descrizione Comunque il solito discorso TPM Un computer abbastanza buono di prestazioni Ma neanche più di tanto E qui sotto abbiamo il magico tasto scarica Qui fa la verifica Ci fa scegliere la lingua del prodotto Quindi andiamo a scegliere italiano Diamo conferma E lui ci preparerà praticamente il link per il download Possiamo fare direttamente clic qui E ci andrà a scaricare Windows 11 64 bit Possiamo anche verificare il nostro download Attraverso queste istruzioni Però dico E' anche questo un po' opzionale Allora passiamo su VirtualBox Io ho preparato questa macchina virtuale La quale ho dato 4 giga di RAM Come potete vedere E 3 core come processore Penso che bastino Possiamo esagerare E ne vado a dare 4 Anziché I 3 che ho messo a disposizione Ok Diamo 4 da qua Perfetto E andiamo a avviare La nostra macchina virtuale Ovviamente ragazzi Stesso discorso Che avviene per le distro Linux Potete usufruire di Rufus Se non volete utilizzare il tool Di Microsoft Al solito visitate il sito di Rufus Scaricate il file EXE Che è anche portable Quindi non si installa Doppio clic Scegliete la pendrive Andate a selezionare la ISO In questo caso di Windows 11 E fate avvia Nulla di più semplice Ok Avviamo la pendrive Dato un semplice invio Ovviamente voi qui vedete il logo di VirtualBox In realtà avrete il logo Della vostra scheda madre Ok Eccoci nelle fasi di installazione Qui già abbiamo Lingua italiana Formatore e valuta italiano E layout tastiera italiano Nel caso potete correggere ovviamente il tutto Con un semplice clic Nei 3 menu Andiamo avanti Qui abbiamo anche le opzioni Di ripristi nel computer Molto comodo Perché vi va a avviare dei tool Per ripartire da un punto di ripristino A me è successo Proprio l'altro giorno Di dover ripristinare A causa di un aggiornamento di WMWAR Che andava a dare problemi Sono tornato indietro di 4 giorni E ho risolto Comunque noi facciamo install Qui ci chiede il codice di attivazione Le strade sono due ragazzi Se già lo avete Insieme al vostro account Microsoft Potete fare Non ho un codice Product Key O inserirlo direttamente Vi lascio anche qui sotto In descrizione Il sito dove ho acquistato io La chiave di licenza Per Windows E' un sito molto affidabile Lo sponsorizza anche il buonghela Se non erro Ci dovrebbe essere anche un codice sconto Vabbè Nel caso Ve lo lascio sotto il link Che era legato Sempre al buonghela Ma vabbè Noi facciamo Non ho un codice Product Key Andiamo a scegliere la versione La scelta Sarà condizionata Dal fatto Che voi avete acquistato Una chiave di licenza Per esempio Di Windows 11 Pro Che è quella che ho preso io Quindi Selezionate la versione Che avete acquistato Qui avete tutte le versioni Dalla home Alla pro Pro education Eccetera Quindi andiamo a selezionare La pro In questo caso E' appunto una ISO Multi versione Molto comodo Non come prima Accettiamo i termini E condizioni Che ovviamente Nessuno di noi legge Però sono tutti qua A nostra disposizione Facciamo avanti E qui ci dice Aggiorna Installa Windows E mantieni file Impostazioni e applicazioni Quindi nel caso in cui Avete Già Windows 10 Potete effettuare L'aggiornamento Così Viceversa Installazione nuova Pulita Anche se avete Windows 10 Ma volete cancellare il tutto Personalizzata Qui Avete il vostro disco In questo caso Ne vedete solo uno Ma potreste avere anche Altri dischi dati Eccetera Selezionate Selezionate l'unità giusta Quindi in questo caso Questa è l'unica E viene facile Facciamo un click Su DS E facciamo nuovo Qui Lasciate tutto lo spazio Disponibile Fate applica Qui Qui vi dirà Per garantire il corretto funzionamento Tutte le funzionalità Blablabla Vuoi aggiungere una partizione Ok Lui andrà a partizionare Il nostro disco Quindi Non c'è alcuna necessità Di andare a fare Formatta Formatta Lo fate Se già c'era un sistema In essere E andate a fare un click Su Formatta Ma generalmente Basta eliminare Le varie partizioni Vi faccio vedere In questo modo Ok E Ok E avete Tutto lo spazio Non allocato Come potete vedere qui Quindi facendo di nuovo Nuovo Allocando tutto lo spazio Quindi in questo caso 100 giga Che io ho dato Diamo ok Non c'è alcun tipo di problema Lui va a dare tutte le partizioni Necessarie al sistema Quindi Non c'è Di mettersi là Come si fa E' semplicissimo Nuovo E lui va A partizionare il tutto Andiamo avanti E qui inizierà L'installazione vera e propria Di Windows Con la copia dei file E poi Vabbè Il primo avvio Con tutto quello che ne consegue Dobbiamo mettere il nostro account Configurare Le impostazioni Di private E eccetera Che ancora vedremo E nulla Ci vediamo appena Termina questa fase Bene Ora ci chiederà di riavviare Il computer Un semplice clicco Comunque come avete visto Fa lui Praticamente in automatico Quindi Riavviamo Ovviamente poi dobbiamo togliere La pendrive Quindi ora Dobbiamo andare a rimuovere In questo caso Il disco virtuale Ok Eccoci alla fase Solo un momento Che Vabbè Dipende dal vostro Computer Ovviamente Quanto dura Questo momento Ok Qui ci chiede Di scegliere Ovviamente Il paese O l'area geografica Giusta Va benissimo Italia Sì Questo l'hanno un po' Modernizzato Rispetto a Windows 10 Ma ovviamente I passaggi Sono i medesimi In lingua italiana Per la tastiera Sì No Non voglio aggiungere Altri Layout Di tastiera Ovviamente Poteva anche aggiungermi Il layout inglese Ma possiamo farlo anche In un secondo momento Verifica La disponibilità Di aggiornamenti Ok Qui Vi chiederà Il nome Del dispositivo Potete mettere Quello che preferite Mettiamo Claudio Come vuoi Configurare questo dispositivo Ovviamente Uso personale E' quello Principale Che facciamo In ogni abitazione Configura per l'uso aziendale O per l'istituto di istruzione Nel caso scolastico O appunto Aziendale Andiamo avanti Blocca la tua esperienza Microsoft Qui possiamo fare L'accesso Con il nostro Account Microsoft Qui In questo caso Simuliamo Che non ne abbiamo Quindi creiamone Uno insieme E ovviamente Se avete già Un account Microsoft Potete fare L'accesso Con l'email Io vi faccio vedere Come creare Appunto Un account Microsoft Ex novo Qui addirittura Esageriamo Facciamo Crea Un indirizzo Mail Quindi andiamo A sfruttare Outlook E mettiamo Claudio Virtual Ok Chiocciola Outlook.it Potrei scegliere Anche .com O Hotmail Ma poco importa Ok Come password Direi di mettere C'è un amico Il blocco note Le dita pronte A scrivere Non me la ricorderò mai Però Vabbè Ok Qual è il tuo nome Claudio Virtual Come cognome Perfetto Ovviamente Mettete i dati Seri Ok Facciamo Click Su Avanti Allora Ora Ci chiede Un'email Alternativa O Il numero Di telefono Io andrò A mettere Un'email Alternativa Vi oscuro Questa parte E poi Insomma Andiamo Avanti Lui va a fare La verifica Ovviamente Andremo A utilizzare Questo Come account Del sistema Quindi non c'è bisogno Di fare altri accessi Direttamente Sarà legato qui E poi Potete inserire Il vostro seriale Una volta acquistato Sul sito Che vi dicevo O Attraverso canali ufficiali Microsoft All'interno Di Windows Qui ci fa creare Un pin Per l'accesso Allora Qui Ci chiede Una combinazione Complessa Di lettere E simboli O semplicemente Solo Numeri Io in genere Metto Solo e soltanto Numeri Ok E andiamo Avanti Questo ci servirà Per fare l'accesso A Windows E evitare Ogni volta Di dover mettere Le credenziali Dell'account Microsoft Lui ci andrà A sbloccare In automatico Allora Consenti a Microsoft Teleapp Di utilizzare La tua posizione Qui Possiamo dare Tranquillamente No Trova il tuo dispositivo No Includere Facoltative Bla 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 Solo Obbligatori Per quanto riguarda La diagnostica Di sistema Cioè Sostanzialmente Io qua torno a tutto Poi Personalizza La tua esperienza Qui Possiamo Scegliere Queste voci O fare Ignora Direttamente Ok Poi Esegui Il backup Su OneDrive E io In genere Faccio Salva i file Solo in questo computer Allora Accesso Concesso Di offrire Una prova Gratuita Di Microsoft 365 Rifiuta Perché Non ci serve 100 giga Di spazio Di archiviazione Rifiuta Perché poi Sono Comunque Opzioni A pagamento Che potete Acquistare Anche dopo Poi Per quanto riguarda E play Ignora Bene ragazzi Primo avvio Fatto Ho aggiunto Le guest edition Per avere Il massimo Della Risoluzione Ora Andiamo a personalizzare Un po' Il sistema Per Comunque Migliorarlo Un attimino Io per esempio Vado a levare Quello che è Il cerca Che non utilizzo Visualizzatività I widget E anche La chat Dopodichè In comportamenti Della barra Delle applicazioni Io Sono nostalgico Lo vado a rimettere A sinistra Perché Comunque Preferisco Il tutto Poi Mettiamo Il tempo Scuro Ok Che già è tutta Un'altra Vicenda E poi vabbè Le personalizzazioni Stanno a voi Dovete poi Attivare Windows Da impostazioni Potete Tranquillamente Fare click Su Informazioni Qui In basso Ok Informazioni Del sistema E Attivare La vostra copia Di Windows Nello specifico Vi basterà fare Codice Product Key E attivazione Qui andate a Inserirlo Se già l'avete legato Al vostro account Microsoft Qui vi risulterà Già attivo Viceversa Fate Cambia Product Key E andate a inserire Appunto Il codice Che avete Acquistato Link Ripeto In descrizione Con l'eventuale Codice sconto Di Gela Perché Io ho seguito Il suggerimento Appunto Del buon Gela Bene ragazzi Per questo video È tutto Abbiamo messo Come installare Windows 11 Senza particolari Problemi Possiamo anche Poi eseguire Una pulizia Manuale Di quello Che è Il link Più Installato Nel sistema Anche se avete visto Che con personalizzazioni Non ho accertato Alcuna Proposta Da parte Di Microsoft Quindi Già abbiamo fatto L'installazione Più pulita Possibile Poi C'è da limare Magari Qualche processo Qualche impostazione Ma È anche Del tutto Opzionale Io Per esempio Vi ho fatto vedere La personalizzazione Della barra Dal centro A sinistra Però Non vi cambia Sicuramente L'esperienza D'uso In effetti Funziona Sia al centro Che a sinistra Bene Io vi ringrazio Per aver visto Questo video E come sempre Like E iscrivetevi Per non perdervi Alcun video E noi Come sempre Ci vediamo In un prossimo video Ciao Step 1 Wake up